Buongiorno amici, oggi vediamo come non serve essere ricchi per volersi bene. Per tutto questo ho impiegato solo 13,80 euro. Meno di un weekend, poche ore all'aperto in Valsesia, 1100 metri alle ricerche di un po' di fresco. Medita, rilassati, regala a te stesso un po' di calma, rallenta il respiro, dona quiete alla mente, rinforza il tuo sistema immunitario con lo yoga e i bagni freddi. Non temere, pensa positivo, tu sei energia, tu sei giusto, non sei sbagliato, tu sei tu e sei perfetto così come sei nella tua imperfezione. Sì, quell'unico fiore che cresce fra le pietre e non si lascia intimorire nell'essere solo. Guarda intorno, amplia le tue vedute fino a scoprire che altri, diversi da te, sono ugualmente fieri della propria unicità. Riscopri la bellezza nella semplicità. Includi i frutti della terra senza essere egoista nella tua alimentazione quotidiana e fai sì che questi ti rinnovino i nutrimenti utili al nostro organismo per vivere in salute. Scambia energie di pace e amore con gli esseri viventi che incontri sul tuo percorso ogni giorno. Respira con loro e ringraziali per la loro compagnia. Medita, rilassati, regala a te stesso un po' di pace e inquieto. E di nuovo fai yoga, immergiti nelle acque gelide e apprezza ogni minimo cambiamento. Vedrai che ne gioverà sicuramente tutta la tua persona.